allacciate le cinture perché questa mattina partiamo per uno splendido viaggio il viaggio nella vita di sepulveda e ci guida il suo amico massimo vigliara qui diamo il buongiorno e benvenuto nel nostro studio autore e produttore cinematografico è un viaggio che prende piede da un libro rincorrendo le storie in cui fai una lunga disamina insomma del personaggio e dell'amico sepulveda vogliamo partire con questa chiacchierata di oggi proprio con l'inizio scritto una frase proprio di sepulveda in cui dice viaggiando in lungo e in largo per il mondo ho incontrato magnifici sognatori uomini e donne che credono con testardaggine nei sogni e li mantengono li coltivano li condividono li moltiplicano io umilmente a modo mio ho fatto lo stesso e questo secondo me il modo migliore per non solo per iniziare un libro perché l'è iniziato così ma proprio per presentare anche a chi magari non ha così dimestichezza con sepulveda chi era sepulveda sepulveda era un uomo di dieci sfaccettature perché ha vissuto tre vite dicevano perché sepulveda è stato innanzitutto un grande combattente per la libertà un uomo che ha sofferto le torture che poi è andato a combattere anche per la libertà in amalagua nel nicaragua e dopodiché ha cominciato a lavorare per greenpeace perché per lui viaggiare è una cosa che adorava ha lavorato cinque anni su greenpeace e dopodiché ha scritto il suo primo libro il vecchio che leggeva romanzi d'amore e da lì è partita la sua carriera letteraria la la carriera invece di viaggiatore ce l'ha avuto sempre lui era un viaggiatore meraviglioso io ho fatto con lui tanti viaggi specialmente nel sud del mondo nella profonda patagonia nella terra del fuoco e lui aveva io ho intitolato il libro proprio rincorrendo le storie per questo perché erano le storie che rincorrevano lui qualunque persona fermasse aveva una storia su cento gaucho incontrava quello giusto era si dice che viaggiare sia un modo per ampliare se stessi per anche a volte ritrovare se stessi per lui probabilmente lo lo era anche ma era un modo soprattutto per guardare gli altri per proiettare il proprio occhio sugli altri e per guardare le storie delle persone proprio così lui non so visualizzava e poi scriveva ecco perché lui era molto cinematografico lui amava tanto il cinema anche perché la sua carriera è cominciata a 16 anni che leggeva le sceneggiature alla radio alla radio a una radio di santiago e la cosa bella che erano quasi tutte sceneggiature italiane perché lui amava da morire tutto il cinema italiano specialmente la commedia degli anni 60 i comincini germi monicelli scola un eroe per lui un mito e l'italia stessa è sempre stata molto legata a lui se tanto tanto lui specialmente per la gabbianella che è stato un successo enorme è diventato quasi libro di testo i figli nostri hanno studiato lo avevano proprio come testo io con sepulveda io faccio cinema quindi ho relazione continua con attori eccetera quindi sono abituato a rapporto attore pubblico mai con uno scrittore sepulveda girava per strada lo fermavano in italia era amato folle a bologna specialmente era una cosa lo adoravano ma perché lui adorava l'italia era simpatico gli piaceva gli piaceva il cibo per la mozzarella lui diventava pazzo era così era proprio amava l'italia ed è stato coinvolto anche nella roma nella vittoria della roma a un certo punto della sua vita stavo coinvolto perché era andato viveva a casa mia che stava scrivendo la sceneggiatura del film ed era andato in centro ed era il giorno che la roma vinse lo scudetto e stava a piazza a campo di fiori per lui andava a camminare da solo in giro per roma ore e oggi tutto arrivano questa marea di tifosi qualcuno lo riconosce l'opinione lo cominciano era grosso e lo cominciano a tirare in aria urlando è il cileno quello vero ce l'avevamo noi perché l'anno prima la lazio ha vinto lo scudetto con un cileno salas che giocava nella lazio allora loro l'ottima veniva del cileno quello vero ce l'avevamo noi oggi vogliamo raccontare se pulveda anche così attraverso i suoi rapporti non solo anche con la vostra amicizia di cui parleremo fra pochissimo ma un rapporto su tutti che quello con la moglie carmen compagna di una vita sposata due volte sorte che peraltro è capitata anche a te con tua moglie allora vediamo questa intervista realizzata a carmen da noi da gabriele santoro ho conosciuto massimo vigliar nel 1998 quando ci raggiunse nella nostra casa di ghion dai primi momenti dell'incontro ho avuto la sensazione che sarebbe nata un'amicizia forte e duratura avevano lo stesso spirito visione delle cose del mondo e caratteri accomunati dall'umorismo nonostante realizzassero progetti importanti non si prendevano mai troppo sul serio e sapevano sdrammatizzare anche le situazioni più complesse è stata un'amicizia a prima vista che è andata oltre la dimensione professionale destinata a durare per sempre questo libro restituisce l'avventura che ha rappresentato il cinema per luise sepolveda uno scrittore che amava moltissimo sperimentare tra le arti il cinema era una delle sue passioni realizzare i film e documentari è stato il compimento di un sogno per lui fu un esperimento inedito ma molto affascinante siamo i sopravvissuti della generazione che visse il periodo più duro della dittatura in cile di pinochet e le sue violenze abbiamo resistito in patria opponendoci al regime e la lotta è continuata anche da fuori negli anni dell'esilio molti di noi sono caduti in questa battaglia contro l'oppressione verso la conquista della democrazia l'intera opera di sepolveda esprime un altissimo valore etico la sua umanità è stata una stella polare per tutta la mia vita abbiamo vissuto un amore fuori dal tempo e di lui continueranno a restare impresse le parole scritte ha dato voce ai senza voce ed è una voce che continua anche proprio grazie alla testimonianza viva di carmen che ricordava in apertura del servizio quel lontano 1998 il vostro primo incontro a icon si ero molto emozionato molto perché prima cosa sono andato da solo perché il regista l'ittinetto vai tu parlaci tu vedrai che ti sarà simpatico eccetera io arrivo mi conviene a prendere lui e niente subito ho cominciato a stare subito d'accordo era si capiva che ci volevamo bene subito e luce anche perché poi avevamo la patagonia in dentro e io la prima domanda gliel'ho fatta dico ma hai conosciuto bruce chatwin perché per me patagonia era era bruciato in quel libro meraviglioso si ci siamo incontrati ma io ho trovato la casa di bascassi di billy de chiedo lui non l'aveva trovata ancora e lì abbiamo cominciato è nata questa amicizia siamo stati tre ore quattro ore a parlare di tutto mi ricordo loro due che parlavano di cose talmente normali come se fossero a un certo punto fa se tipo ma quella dinamite che avevamo messo sulla grondaia prima che ti arrestassero a te ma chi l'ha tolta di dinamite e lei fa mi sa che sta ancora lì non mi è toccato lì però mi sei trent'anni ha messo la dinamite però questo dalla dimensione di come l'hai detto anche prima conoscere avvicinarsi a sepulveda era avere a che fare con tante vite in una in una sola perché immagino che anche a pro conoscerlo di persona e approfondire una conoscenza fosse come sfogliare una cipolla dove vedi strati su strati su strati e continui a scoprirne perché appunto dal è una vita che ha parlato dal punto di vista sociale dal punto di vista politico il suo impegno al punto di vista anche dell'ecologia a 360 gradi veramente sì io credo che l'ultima parte della sua vita lui tendesse molto approfondire l'aspetto ecologico lui era molto preoccupato per l'ambiente e sempre arrivava lì noi abbiamo fatto un documentario che si è ancora son verde che appunto andava a sentire gli ultimi quelli che non parlavano mai quelli che ti dicevano non bisogna essere un astronomo per amare le stelle che un contadino ci raccontava e abbia fatto un documentario contro la costruzione di una centrale di alluminio che avrebbe distrutto migliaia di ettari e averla vinta dopo sei mesi che il governo ce l'hanno ha dovuto sospendere la costruzione è stata per una gioia enorme io non l'ho mai visto tanto felice come quando giravamo corazon verde perché stava in patagonia parlando di ambiente tra gli ultimi era il suo abito al naturale era il suo poi tra l'altro avete lavorato insieme anche a ninguna parte sia diretto da lui abbiamo fatto il film insieme fin difficile perché molto coinvolto lui era tra altre cose non l'abbiamo potuto girare in cile perché era me non stava comodo lui in cile innanzitutto era primo nella lista di patria o morte che lo volevano eliminare e siamo andati al confine al nord dell'argentina però lui era molto molto coinvolto personalmente quando cominci a parlare di torture di prigionieri forse il film non ha avuto nemmeno il successo che ci eravamo prefissati per questo coinvolgimento esagerato emotivo che aveva lucio sfogliando il libro si vede anche come il rapporto fra voi fosse particolarmente acceso e vivo anche da una serie di scambi di email che tu inserisci dove si avverte insomma anche quello che diceva prima carmi il tono anche molto scherzoso che avveniva fra di voi serio e poi al tempo stesso scherzoso che andasse appunto da un epiteto al fatto di un di un estensione di un file che veniva intese in un altro modo un jpeg che diventava un'altra cosa fra di voi era un modo per che manteneva sempre vivo diciamo questo spirito giocoso sì noi eravamo terribili facciamo cose che a 60 anni non si devono fare loro ragazzini c'era carmen che pazziva a casa quando stavamo a chi con impazzia perché facciamo sempre guai poi nascondevamo cose e a lui gli piaceva tanto lui aveva una rivincita sulla vita lui aveva avuto una parte molto dura 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 e dice tutto quello che c'è stato dato noi dobbiamo apprezzarlo e non guardare al passato ma guardare davanti a noi è andata bene perché noi siamo sopravvivientes questa era la sua noi siamo sopravvissuti perché il 70 per cento di noi sono morti sono stati torturati eccetera quindi noi che ce l'abbiamo fatta dobbiamo scherzare ridere guardare il futuro con gioia e lui era così era proprio così qual è il carattere secondo te che che più l'ha fatto amare abbiamo detto prima che l'italia particolarmente c'era un bel legame fra l'italia lui e fra lui e l'italia qual è qual è il tratto quali sono i tratti che 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 più l'hanno fatto amare dalle persone che l'hanno conosciuto la sincerità la semplicità tanta lui era uno che parlava con tutti che si fermava io mi ricordo a napoli si fermava a mangiare a parlare con i pizzaioli voleva vedere come si faceva la pizza stava sempre a cercare delle per raccontava tutto questo qui no perché lui come dicevi prima lui guardava e per raccontava tutte cose che e non ha fatto in tempo a scrivere un libro bellissimo ancora forse uscirà a postumo che che era quello che lui sognava l'albergo come protagonista hotel cile ovvero un albergo nel corso di cinque anni tutto quello che vede il protagonista del libro è l'albergo che parla ed è intelligentissima l'idea perché ora a pensarci è semplice ma pensaci e lui aveva pensato a questo l'albergo protagonista di questa storia di tutti della gente più semplice così era lui un po' come se fosse la rappresentazione sua che si rendeva albergo del mondo esatto vedendo le storie degli indios vedendo tutte le storie con cui entrava in contatto e cercando poi di raccontare che poi la ragione per cui non ha scritto un'autobiografia esatto proprio così infatti il 16 aprile del 2020 lo sappiamo insomma è stata notizia di quei giorni il covid vissuto tra l'altro anche condiviso anche quello con carmen ulteriore modo di 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 condividere qualcosa con la compagna di vita ci ha lasciato e ha lasciato tutto il mondo ti ricordi quei giorni immagino insomma è perfettamente perché è stato in coma per due mesi e noi ogni giorno un giorno io un giorno daniel l'altro nostro amico il grande fotografo prendevamo contatto con carmen o con l'ospedale che una volta al giorno ci diceva lucio è andato in coma subito mentre carmen si è ripresa ma lucio aveva i polmoni rovinati è stato in prigione un anno a un metro sottoterra e li ha avuti rovinati infatti già fu ricoverato nel 2015 a pordenone durante un festival letterario per una grossa polmonite e il covid l'ha preso subito proprio non ha resistito perché ha resistito due mesi e passa in coma è stato uno dei primi in spagna a prendere il covid tra i primi proprio carmen prima diceva che la la sua voce continua nelle cose che ha scritto immagino che sia così come forse insomma anche di più per te che ne sei stato amico il mondo l'ha perso te hai perso anche un amico oltre che perdere sepulveda tanto e ho scritto io non faccio lo scrittore io faccio cinema e però durante la pandemia la solitudine forse anche per metabolizzare la mancanza di lucio ho cominciato a scrivere la nostra storia che credevo di non pubblicare io credevo di fare un libretto per non so cento amici per natale i nostri amici poi dopo di che ho chiesto il permesso a carmen carmen mi ha detto no no mi piace lo devi far leggere all'editore di come sei matti non faccio questo lavoro poi l'ho mandato incredibilmente dopo due giorni mi chiamò il presidente la guanda brios che mi disse lo pubblichiamo noi ed è stato un libro scritto proprio per raccontare quanto ci volevamo bene perché mi manca molto a me lucio perché era su due persone che mi manco dato tonino guerra il grande sceneggiatore lui sepulveda io voglio ricordarlo rincorrendo le storie lui sepulveda un amico edito da guanda ecco forse l'ultimo regalo che ti ha fatto perché se tu in qualche modo a uno scrittore l'hai fatto diventare regista lui lui a te che già lavoravi nel cinema ti ha fatto diventare scrittore con questo perfetto è così grazie massimo grazie a voi venuto da noi a presentarlo